Ebbene carissimi amici, ben ritrovati sul mio canale YouTube, come sempre una buona serata a tutti voi, siamo nel dopo estrazione, quindi quadro estrazionale di venerdì 19 gennaio, andiamo a valutare quello che è successo, vi dico già, vi anticipo che ci sono bei segnali che vanno a confermare delle conferme sulle mie spie, vi ricordo i tre nuovi metodi che sono Cagliari, Milano e Napoli, quindi attenzione a questi 3,90 e chiaramente abbiamo delle conferme in ripetizione. Come per esempio la ruota di Bari che secondo me potrebbe dare ancora per la terza volta il 90, quindi chi ha la spia 49 in mano chiaramente la sto facendo continuare, perché notate dalle statistiche dei metodi spia che il 90 dalle mie spie dà anche vincite molte, anche 2, 3, 4 volte, quindi attenzione. L'86 di Bari è un ottimo segnalatore sommato alla decina del 42 da 90, quindi 86, 4, 90, poi abbiamo la distanza 2, 53, 55, il vertibio 55, 59. Questo trittico della cinquantina è molto bello, è una bella segnalazione, quindi attenzione alla ruota di Bari, chi non ha preso la spia 49 me la può richiedere, chiaramente. Premetto e ricordo che le mie spie funzionano con la modalità vincita venuta dedicata, metodo incluso che rimane sempre vostro, impegno vostro di giocata e pagamento alla vincita. Quindi 348 75 47 715 per contattarmi via Whatsapp e giocare assolutamente le mie spie, cari amici, perché abbiamo ottenuto delle vincite eclatanti. Abbiamo ottenuto delle vincite a fine 2023 da capogiro. Tra fine e inizio anno 2024 abbiamo chiuso ed aperto con il botto, quindi attenzione ai miei metodi spia. L'abbiamo su Cagliari, questa sera Cagliari ci conferma con una distanza 1 78 79 il 90, quindi attenzione. Poi abbiamo Firenze con lo zerato in terza 30, Genova la spia 39 di Milano, sapete che l'abbiamo in gioco e mi conferma il 90 Genova. Abbiamo la distanza 1 2 3 il 2 che è un segnalatore e anche il 66 di cadenza 6. Abbiamo l'altra spia a Milano, l'89 di questa sera ce lo conferma, quindi attenzione. Napoli ce l'ho zerato 60, notate come Firenze e Napoli in terza posizione danno somma 90 di zerati, 60 e 30. E abbiamo 3 75, Firenze, Genova e Napoli. Quindi questi tre numeri a sequenza. Tra l'altro Napoli portambo di cadenza 25, 75. Palermo porta il 6 con 69. Sto facendo continuare, potrebbe, sapete che il comportamento del 90 si va a ripetere dove è già sortito, quindi tutto può accadere. La ruota di Roma, l'84 dice sì al 90, guardate come conferma il quadra estrazionale, Firenze e Roma. Roma in ripetizione, quindi attenzione. Con la figura 9, 18. La coppia Milano-Venezia rimane sempre in pole position, sempre una grandissima coppia. Questa sera 39 segnalatori su Venezia, con il 18 figura 9. Sapete che Milano ce l'abbiamo, dalle spie quindi attenzione. È la nazionale che continua a dare segnali. 48 che è un bel segnalatore, il 54 figura 9 e l'89 che è un altro bel segnalatore con la cadenza 9 unita, 29, 89. Quindi un altro quadro estrazionale che ci dà ancora ottimi segnali di 90. Vedremo nell'estrazione di domani, sabato 20, se arriverà qualcosa di importante. Mi raccomando, sempre la costanza e la fiducia nel gioco, perché molti si stancano, si scocciano, abbandonano e perdono grandi, grandi vincite. Quanti di voi hanno perso le grandi vincite di fino 2023 e di inizio anno con il 90 non avete idea? Perché molti di voi, quando poi ci sono quelle estrazioni che magari i numeri non escono, si stancano e mollano la presa. Quindi perdono l'investimento per seguire la giocata, perdono la vincita, quindi doppio danno. Attenzione a seguire con costanza, che siano i metodi spia, che siano le provisioni in abbonamento, che siano le provisioni avvenute a colpo. Si va avanti con costanza. Anche i metodi, anche i metodi mensili. Quindi può succedere un negativo, come qualsiasi metodo, però poi il mese successivo è molto probabile che andiamo a riscuotere quello e l'altro. Quindi, perché sapete come funzionano i miei metodi. Quindi, contattatemi via WhatsApp per le spie, come vi ho spiegato, per i miei metodi mensili, che vanno sempre molto molto forte. Per i software, avete belle promozioni o sul singolo metodo software, oppure promozioni, dieci software, dieci metodi. Quindi potete contattarvi via WhatsApp. Idea vincente, non vi dimenticate mai di questo metodo, perché è un metodo che farà parlare ancora di sé, perché ha strapagato negli ultimi mesi. Vi sto dando con idea vincente, pensate un solo ambo, su tre ruote, nella modalità vincita venuta. Quindi potete contattarmi sempre via WhatsApp. Il numero lo trovate sempre in descrizione, 348-7147-715. Quindi, mi raccomando, idea vincente è uno di quei metodi veramente da non perdere. Mi ha dato tantissime soddisfazioni dalla primavera del 2023. Abbiamo ottenuto veramente delle vincite importanti a colpo secco. Quindi, e siamo reduci dal 9 gennaio, non è che la vincita è uscita tre anni fa. 4,54 sulla ruota di Bari. Ambo, che vi ho testimoniato, con diversi cedolini vincenti. Vediamo, se entro gennaio ci regala un altro Ambo secco. Vediamo cosa possiamo dire ancora. Bella la sequenza Genova-Milano, 3,2,3. Molto interessante. Ma mi piace su Bari questo trittico in cinquantina. Questo, state attenti perché su Bari, se poi si ripete il 90, non è strano. Poi ci mettevo le mani nei capelli. Dicevano, ma come è possibile, terza volta il 90 a Bari. Tutto può accadere, cari amici. Tutto può accadere. Io ce l'ho in segnalazione. Ce l'ho in segnalazione di ripetizione sulla ruota di Bari. Quindi vedremo cosa succederà. Chiaramente abbiamo anche spie su altre ruote. Quindi, secondo me, ci sarà ancora una grande superfrequenza di questo 90. Lo vedremo ancora alla grandissima. Vediamo questo trittico anche in cadenza 9. Venezia nazionale 39, 29, 89. Questo triangolo, molto bello. Poi... Vediamo se c'è ancora qualcosa. Mi sembra di no. Quindi ci arrivo appuntamento all'estrazione di domani, sabato 20 di gennaio. Per adesso saluto a tutti i mister.